La popolare cantante vestirà i panni di una boss spietata nella serie tv L'Ispettore Coliandro Mercoledì sera su Rai 2 torna la nuova stagione dell'Ispettore Coliandro, la serie con Giampaolo Morelli Quest'anno il cast si è arricchito con degli attori di grande calibro come Claudia Gerini e addirittura Iva Zanicchi L'Aquila di Vigontio, sarà protagonista della terza puntata, e, stando alle sue anticipazioni, interpreterà un personaggio molto cattivo Iva Zanicchi e il suo ruolo da mafiosa nell'Ispettore Coliandro.In una lunga intervista al Corriere della Sera, Iva Zanicchi ha dichiarato che l'esperienza fatta sul set dell'Ispettore Coliandro le è piaciuta moltissima E nei panni di una donna cattiva, la giurata di Tussico e Vales arriva ad uccidere una persona con un fucile a pompa, e ne fa secco un altro con la frusta L'artista ha affermato che non è stato facile calarsi in quella parte, e soprattutto prendere confidenza con le armi Quando ho sparato la prima volta sembrava una bomba, mi è preso un colpo, il maestro di Frista invece mi ha insegnato con un colpo ad avvolgere l'accio intorno al collo di una persona, avevo paura di ammazzarlo davvero Ha dichiarato la Zanicchi che durante una scena della fiction, è stata presa a botte pure da Gian Paolo Morelli Iva Zanicchi rilascia un'intervista al Corriere della Sera.Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Iva Zanicchi ha confessato che, a differenza di quello fatto nella fiction di Rai 2, lei è una donna molto calma Non si considera cattiva, anzi ha ammesso che non porta mai rancore alle persone che le hanno fatto del male Chiede subito perdono e piange spesso.Sono una che non porta rancore e ho anche un altro grosso difetto. Non soffro di vidia Non soffro di chiudere la scena, non soffro di chiudere la scena, non soffro di chiudere la scena